Come ti era passata per la mente questa canzone? Allora, leggendo un paio di libri, uno era il flagello della svastica e l'altro era tu passare per il camino E così mi viene questa idea, insomma, ho ancora da qualche parte il foglietto di carta quadretti perché stavo preparando non so che esame Col testo, l'equipe la fece e ha cambiato un po' il testo, cioè nel finale io chiedo quando sarà, mentre loro dicono no, io non credo Quindi era una versione più pessimistica? Sì, la loro è una versione più pessimistica Cioè c'era più speranza, diciamo, nella versione di Gucci Invece lì un altro successo che, insomma, come dire, ti ha aiutato a fare anche il tuo primo disco è stato Dio è morto Dio è morto invece da che letture nasce? Ma io dico che è nata da una copertina di Time, mi sembra questa rivista, questo settimanale americano Con un... questi istintivi di metallo, come si chiama? Dove c'è scritto God is dead, Dio è morto E si parlava allora dei filosofi che dicevano della morte di Dio Delle ogie della morte di Dio Però, giustamente, qualcuno ha fatto osservare, giustamente, chi mi ha dimenticato Dell'urlo di Ginsberg Ho visto la gente migliore della mia generazione, eccetera E quindi sicuramente sono state queste le due cose che hanno fatto, che hanno messo assieme, che hanno fatto nascere questa cazzone, diciamo Fra l'altro, ti dicevo prima che l'equipe l'aveva rifiutata, no? E sto grato Andai allora ad Amsterdam, perché allora c'era l'Amsterdam, il mito di Amsterdam, dei profo, eccetera E c'era un gruppo di ragazzi bolognesi che andavano anche loro, andavano a Amsterdam Io altrimenti avevo la chitarra, feci questa canzone, e loro rimasero entusiasti, eccetera Ed erano ragazzi che frequentavano un certo padre Michele Casani Che poi, quel frate domenicano con cui ho fondato, o abbiamo fondato assieme, la famosa Osteria delle dame Quindi tutto si ricollega E di tutto torna poi Tutto torna Per quanto...